buonasera a tutti innanzitutto mi scuso di non poter essere presente di persona ci avrei tenuto moltissimo purtroppo un impegno domani mattina su roma al viminale mi vede costretto a stare qui vi do comunque appuntamento fisico domani sera sempre a pavia nell'aula del 400 dell'università se volete possiamo continuare di persona questa nostra discussione e molto apprezzato la mail con cui mi si dava il titolo di questo intervento il coraggio della lotta alla mafia diceva nanni moretti forse qualcuno di voi se lo ricorda che le parole sono importanti e il coraggio della lotta alla mafia a quelle tre parole che secondo me dovremmo una volta per tutte magari metterci d'accordo un grande accordo bipartisan una sorta di larga intese sulla lotta alla mafia per decidere una volta per tutte la definizione esatta dal punto di vista sociale e civile della parola coraggio a me personalmente spaventa sempre abbastanza a proposito di coraggio sentire questa visione eroica nella battaglia alla mafia rivenduta come un dovere che si forse dovremmo permetterci forse potremmo permetterci e poi inesorabilmente finisce che rimane lì tra le cose che deleghiamo a qualcuno di cui ci fidiamo moltissimo la in sé la vicenda a un un chiaro senso economico un chiaro senso commerciale io sono quello di cui molto spesso ci si fida e quindi potrei dire di avere tutti i benefici di un eventuale progetto di questo genere ma finché noi parliamo di coraggio parlando di mafia penso che siamo completamente fuori strada questo è un paese che non ha bisogno di eroi e non ha bisogno di eroi perché la mafia non è eroicamente negativa e perché la criminalità organizzata di cui ci ritroviamo molto spesso a parlare e penso anche voi questa sera lì a parlarne non è una criminalità organizzata armata fino ai denti con grandi quintalate di tritolo non è nemmeno la criminalità organizzata se vogliamo che fa enormi spargimenti di sangue come nelle famose guerre di mafia dai palermitanico i collonesi o agli stiddari all'inizio degli anni 90 su gela o se vogliamo anche alle guerre d'indrangheta questa è una mafia molto ordinaria è una mafia molto ordinaria quindi non straordinaria che non riesce ad essere sconfitta in modo ordinario significa che è una criminalità organizzata che risulta molto più credibile ecco io credo che forse la prima parola da cambiare sarebbe appunto l'ordinarietà della lotta alla mafia mi scuso quegli organizzatori che so che questo video probabilmente non l'avranno visto prima ma non possiamo cadere nella tentazione di chiamare coraggio il vivere secondo costituzione e soprattutto il chiedendo il rispetto delle regole la criminalità organizzata è molto ordinaria perché riesce ad ottenere risultati eclatanti in percorsi che invece a prima vista risultano addirittura legali non può sfuggire lì a riscaldina ad esempio è il caso del ristorante pizzeria che dimostra ancora una volta come e più di tutti un luogo un esercizio commerciale diventa perfettamente assorbito dall'economia legale per disattenzione amministrativa per lentezza investigativa e per un alto grado di tolleranza molto spesso nella cittadinanza ecco io vorrei proporvi subito una domanda quanti di voi hanno evitato di mangiare da qualche parte di comprare qualcosa o di partecipare a qualcosa perché hanno sentito due ore di mafia per aiutarvi mi piacerebbe sapere quanti di voi si siano mai chiesti se l'acquisto che stavano andando a fare molto spesso così economicamente interessante in realtà non avesse dietro delle pratiche legali ecco l'ordinarietà della mafia riesce secondo me ad attecchire per una disattenzione da parte dei cittadini anzi per una disaffezione da parte dei cittadini la criminalità organizzata crea nuclei di solidarietà solo tra sodali che è l'aspetto antropologico per la definizione di clan di persone che tengono moltissimo al successo della ditta noi purtroppo oggi per questione di crisi per questione di deformazione politica per questione di un federalismo delle responsabilità che ci insegna che comunque alla fine mortua vita mia per una questione se vogliamo anche culturale di approcci sociali in cui la teoria del sospetto ci porta non ad analizzare ma precludere piuttosto certi rapporti beh noi se ci pensate abbiamo completamente atrofizzato il muscolo della curiosità e gli uomini di mafia riescono a vincere lì dove le antenne della cittadinanza sono sclerotizzate a me non interessa mai moltissimo parlare ad esempio del l'intelligenza prettamente criminale non è interessante per noi non è interessante per voi la domanda che dovremmo proporci e la risposta di cui abbiamo assolutamente bisogno è come può succedere che nei nostri territori ad esempio uomini affiliati all'andrangheta abbiano una passione maggiore dei cittadini onesti e molto spesso anche dei delegati all'amministrazione di questi stessi cittadini onesti nei confronti di alcune pratiche che sono assolutamente costituzionali come può essere un piano di governo del territorio come può essere un emendamento nel consiglio comunale o una discussione di legge nel consiglio regionale perché questo paese non si è mai interrogato sul fatto che l'andrangheta abbia già capito da tempo che l'antipolitica è il regalo migliore che possiamo concederle perché abbiamo persone che molto spesso non riescono nemmeno ad articolare un congiuntivo eppure sanno perfettamente che quell'emendamento quell'osservazione al piano di governo del territorio si trasformerà in una cifra che conoscono esattamente tutte le migliaia di euro e molto spesso anche nella virgola dei centesimi e allora il coraggio o l'ordinarietà della lotta alla mafia in realtà passa attraverso l'affezione e l'affettività l'affettività di rapporti umani e sociali che decidono di riconoscere l'umanità e quindi l'etica all'interno del processo produttivo o dei rapporti imprenditoriali noi in Lombardia soprattutto siamo un paese che ha completamente disinnescato il ruolo dell'etica all'interno dell'imprenditoria anzi noi siamo un paese che si ritrova a guardare il capo dei capi quel prurito wireistico che accompagna spesso queste figure molto negative ma comunque che esercitano la loro fascinazione allo stesso modo noi in Italia abbiamo sempre non dico apprezzato per carità non dico nemmeno stimato ma un po' invidiato gli imprenditori spericolati in Lombardia del resto la spericolatezza correggetemi se sbaglio è considerata molto spesso un obbligo da digerire per essere la regione che trascina per prodotto interno lordo tutto il resto del paese e poi la disaffezione e la mancanza di umanità si vedono nel federalismo che non è pericoloso nella versione leghista quella è semplicemente una formula anticostituzionale che abbiamo al governo il federalismo più pericoloso è quello per cui dappertutto presumo anche riscaldina c'è gente che è tranquilla l'importante che il proprio paese sia tranquillo oppure peggio ancora c'è gente che è tranquilla e l'importante è che il proprio quartiere sia tranquillo oppure gente che è tranquilla perché l'importante è che il proprio condominio se fosse possibile anche il proprio pianerotolo sia tranquillo io credo di aver avuto la sfortuna di aver affrontato certi argomenti circondato da una classe dirigente nel senso più ampio più profumato del termine più rotondo quella classe dirigente che non è solo l'assessore il sindaco l'amministratore quella classe dirigente che è fatta da tutti anche da quei ruoli e in quei ruoli che troppo spesso ci dimentichiamo e che forse meriterebbero un'analisi collettiva penso non so ai funzionari degli uffici tecnici comunali penso ai dirigenti dell'amministrazione comunale penso alle risultanze della legge Bassanini ad esempio sulla separazione delle carriere amministrative e politiche che se da un lato non si è proposto di garantire maggiore controllo oggi permette molto spesso in alcuni comuni di non dover nemmeno corrompere il politico ma molto spesso basta trovare uno spiraglio nella porta dell'ufficio tecnico penso agli sportellisti delle banche lombarde sportellisti di banche molto piccole che sono abituati ad avere i risparmi delle famiglie del paese sportellisti che sono abituati a dare la pensione di quelle banche che molto spesso in alcune filiali nelle filiali un po' più sperdute chiedono addirittura i giorni d'anticipo se dico sarà capitato anche a voi per prelevare cifre in contanti che non sono nemmeno ad altissime molto spesso sono le cifre che possono servire a comprare una cucina o un elettrodomestico e inspiegabilmente invece accordano fidi accordano mutui accettano ingenti somme di denaro in contanti come versamenti senza le dovute segnalazioni penso ai cittadini e sono tanti che vogliono convincerci che sia normale andare in un bar appartenuto a qualcuno che da generazioni aveva quel bar che tutti conoscono in paese improvvisamente rivenduto da un estraneo non indigeno che ve lo sistema sotto gli occhi in un modo spesso chiccio o comunque dispendiosissimo e che poi sembra che non abbia bisogno di clienti è antimafioso frequentare con la stessa leggerezza quello stesso bar senza chiedersi perché un investimento così pesante non corrisponde ad un impegno lavorativo dello stesso genere oppure i ristoranti le pizzerie che subiscono la stessa trasformazione penso non so se sia il vostro caso ma ne ho visti tanti ai panettieri e pasticceri noi siamo un paese che ha panettieri e pasticceri che girano con suv enormi che hanno stili di vita difficilmente riconoscibili nel lavoro di una materia prima come può essere il pane dicono bisogna essere dei grandi mostri della finanza per sapere che su pane e latte in generale sulle materie prime o semiprime insomma molto difficilmente ci si arricchisce c'è stato un lattaio che si è arricchito era Callisto Tanzi e tutti noi sappiamo come si è andato a finire oppure mi chiedo se non è il caso in Lombardia ma partiamo da Rescaldino di domandarsi perché abitiamo in località che hanno troppi ipermercati e troppi pochi clienti il problema della criminalità organizzata non è sparare il problema della criminalità organizzata non è nemmeno minacciare un attore o figurarsi l'unico vero problema della criminalità organizzata l'avere troppi soldi avere troppi soldi significa che non si riescono a nascondere non ci stanno sono troppi anche in pezzi da 500 sotto il materasso sulla credenza in cucina non ci stanno da nessun'altra parte allora molti soldi vanno nascosti semplicemente banalmente in due modi o in mezzo a tanti altri soldi ed è per questo che la Lombardia che che se ne dica sarà sempre la regione più comoda sicuramente per la criminalità organizzata oppure fare in modo che i soldi assumano un'altra forma qualsiasi l'importante è che non abbiano più la forma e l'odore pure dei soldi la forma dei soldi può essere in quei bar in quei ristoranti in quei ipermercati la notizia è pessima e non è una notizia politica è una pessima notizia sociale significa che nel nostro paese c'è qualcuno che lavora per spendere soldi piuttosto che per guadagnarli e quindi significa che noi i nostri figli studieranno studieremo cercheremo di coltivare il nostro talento su una professione e capiterà potrebbe capitare che qualcuno faccia il nostro stesso lavoro senza talento e senza istruzione e vincerà perché si è comprato le regole del gioco e perché lui farà il nostro stesso lavoro per spendere soldi senza avere bisogno di guadagnarli qual è il coraggio dell'antimafia? è rinnamorarsi della politica e cominciare a pensare che una classe dirigente deve avere la responsabilità prima di tutto di essere sentinella c'è un'immagine bellissima io la cito spesso sentinella significa che mentre tutti lavorano nel villaggio c'è qualcuno che ha come ruolo come compito come dovere sociale politico costituzionale quello di stare sulle mura del villaggio per vedere chi sta arrivando fuori per vedere se si alza la polvere le nostre sentinelle hanno fallito ci hanno detto che non stava arrivando nessuno non hanno visto arrivare il nemico poi quando è entrato ha buttato giù il nostro ponte elevatoio e si è confuso tra di noi ha detto che ormai la situazione era irrecuperabile ecco una classe dirigente diversa forse è possibile allargando l'idea il coraggio della lotta la mafia l'ordinarietà di innamorarsi dell'antimafia e quindi nell'ordinarietà ci sta una classe dirigente che non passa più solo per i nostri amministratori ma una classe dirigente che è composta fatta dai fratelli maggiori le madri i padri che è fatta dagli insegnanti che è fatta da tutti coloro che hanno la possibilità di essere presi a modello o di poter dare un insegnamento non sono pochi in questo paese diceva Falcone lo ripeteva anche Borsellino la battaglia alla mafia non è fatta con l'impegno straordinario di pochi ma con l'impegno ordinario di tutti l'impegno ordinario di tutti significa costruire una chiave collettiva per una consapevole e ampia collettività guarda caso in termini laici si potrebbe dire in una grande solidarietà guarda forse sarà un caso nella regione che invece ci ha insegnato che la solidarietà è una debolezza che non ci possiamo permettere perché mette a rischio la sicurezza dei nostri figli ecco in quella regione lì oggi l'andrangheta si trova finanziariamente bene si trova imprenditorialmente bene ma si trova ditemi quando decidiamo di riconoscerlo tutti insieme culturalmente bene grazie buona serata grazie